Il punto nascite di Pesaro a quattro mesi dalla riapertura Famiglia Moneti, ultimo braccio di ferro sullo sgombero Tragedia Pietrarubbia, anziano muore potando un albero Quattro eccellenze pesaresi premiate dal circolo della stampa A Pantano ecco l'anfiteatro verde del Trulla A Pantano ecco l'anfiteatro verde del Trulla Rossini TV, ben ritrovati a Rossini News Il nostro consueto appuntamento con l'informazione serale Con il nostro telegiornale che in questa edizione di giovedì 13 aprile Apriamo occupandoci di sanità ospedaliera Sono infatti passati quattro mesi da quando lo scorso dicembre Si è tornati a nascere a Pesaro dopo oltre due anni e mezzo Di ospedale San Salvatore ricalibrato in presidio Covid E con tutti i servizi di ostetricia e di ginecologia dirottati sull'ospedale Santa Croce di Fano Oggi con le nostre telecamere siamo entrati nell'ospedale pesarese Per documentare tutti i servizi ripristinati del dipartimento materno infantile della città Ci troviamo oggi all'ospedale San Salvatore di Pesaro Ospedale che dallo scorso mese di dicembre, quattro mesi fa Si è rappropriato del suo dipartimento materno infantile In pratica dallo scorso dicembre si è tornati a nascere a Pesaro C'è di nuovo un punto nascita dopo che per due anni e mezzo Da marzo 2020 questo è stato unicamente un presidio Covid Di fatto qui potevano partorire solo le donne in stato di gravidanza con affezione da Covid-19 Non è più così dallo scorso dicembre È un reparto che funziona, un reparto che va a pieni giri da quattro mesi Vi porteremo a scoprire come si è riorganizzato questo dipartimento Dai corridoi alle stanze dei vari reparti fino alle sale parto Chiaramente finita l'emergenza Covid-19 si è ritornato all'apertura di questo punto nascita Che era stato creato dal punto di vista strutturale nel 2015 Abbiamo delle sale efficienti, c'è la sala addirittura anche per il parto in acqua Che è una richiesta per molte partorienti E soprattutto diciamo che l'apertura di questo punto nascita Che era aspettato dai pesaresi E quello che io ci tengo a dire è stato aperto in piena sicurezza Noi abbiamo la presenza di due medici H12 dalle 8 alle 20 E la presenza di un medico di notte La presenza del medico di notte è praticamente lavoro in reperibilità Per cui noi siamo H24 nella condizione di poter rispondere sia alle urgenze che anche alle emergenze Garantiamo servizi ambulatoriali nel primo, secondo e terzo trimestre Garantiamo il servizio di gravidanza a rischio Il servizio di gravidanza a termine Senza praticamente tralasciare il grosso lavoro che facciamo a livello ginecologico Noi come ginecologia, il punto di Fano e Pesaro di cui io sono direttore Praticamente svolge e porta avanti un'attività ginecologica molto importante Che diciamo a livello marchigiano è una delle più importanti Perché oltre a trattare patologie benigne ginecologiche Insieme alle unità chirurgiche di chirurgia generale e di urologia Praticamente abbiamo creato un gruppo oncologico Che affronta le patologie oncologiche della sfera femminile Quali il carcinoma della cervice, il tumore dell'ovaio e il carcinoma dell'endometrio Che sono delle patologie abbastanza importanti Che fino a qualche anno fa praticamente le pazienti che ne venivano colpite Si guardavano altrove per risolvere queste patologie Oggi noi circa il 70-80% di queste patologie vengono trattate con buoni risultati Tra le criticità che avete dovuto affrontare al momento del raddoppio di punto nascite Dopo questi due anni e mezzo di unico presidio diciamo a Fano C'è stato anche quello della forza lavoro del personale È una situazione che si riesce in questo momento ad assorbire, a gestire? Allora sicuramente non è stato il momento più felice per riaprire due punti nascita Però la volontà del cittadino è sovrana Per cui i professionisti e la direzione si sono impegnati tutti per poterlo garantire Questo devo dire che comporta sforzi per cui dobbiamo fare anche attività aggiuntiva Fare turni superiori con carichi di lavoro maggiori Questo non vuol dire non mettere in sicurezza le partorienti In realtà semplicemente è un periodo nel quale stiamo vivendo una sofferenza che è comune Veno male a tante specialità in tutto il resto dell'Italia La soddisfazione torna dall'avere una gratificazione da parte delle nostre utenti Che ci ringraziano per avere fatto questo Le ostetriche e i ginecologi sono eccezionali Ci fanno sentire veramente a casa in un momento che per noi è molto molto delicato Quindi io auguro veramente alla città e al reparto di rimanere fisso qui Perché è fondamentale per noi veramente Non abbiamo solo un punto nascita Abbiamo un percorso che al di là del percorso ginecologico Abbiamo il percorso che si prende cura dalla fisiopatologia della riproduzione Quindi dai problemi di sterilità con la PMA, con la precarazione medicalmente assistita Fino all'evento nascita Abbiamo rinforzato la pediatria Continuiamo a fare bandi e concorsi Noi ci siamo, avete visto che l'ambiente è recentemente ristrutturato Sono ambienti belli, sicuri I professionisti sono professionisti con comprovate esperienza Siamo a disposizione per cui aiutateci a far capire che la situazione è tornata a quella di prima Qualcuno non si è accorto, ma lo dico non in termini polemici Che nella provincia di Pesaro è avvenuta una cosa unica nella regione Cioè un'azienda è stata chiusa di fatto E verrà reincorporata in un ramo d'azienda che poteva essere l'area vasta 1 rispetto all'Azur Quindi qui, come sono solito dire, abbiamo due di tutto E dovremmo portare tutto a uno Abbiamo, non so, due regolamenti per la mensa Due regolamenti per i trasporti Due regolamenti per due RSU Quindi c'è un lavoro di preparazione dell'azienda Che richiederà molto tempo e molta pazienza E credo che occuperà buona parte del tempo del futuro direttore generale Che dovrebbe essere nominato ai primi di giugno Quindi ecco, questa è una peculiarità di questa azienda In cui si inserisce anche la presenza non di due Ma di tre punti nascita, perché abbiamo anche Urbino ovviamente Dove la difficoltà maggiore qual è? Quella di recuperare personale In questo momento il nostro crucio è che Avremmo le possibilità economiche di assumere Ma non troviamo professionisti In questi anni, soprattutto dovuta alla pandemia Abbiamo subito notevoli cambiamenti E almeno due, ma ce ne sono altri di coordinatori al nostro fianco Hanno lavorato con grande dedizione Tutto il comparto, dall'OS che lavora dentro il nostro reparto All'infermiere e all'ostetriche Hanno garantito, nonostante le diversità organizzative Un'assistenza di qualità Un'assistenza personalizzata Basata sulle esigenze delle persone Nel nostro reparto Le regole non sono uguali per tutte Perché non tutte le persone sono uguali E facciamo un'assistenza basata Sui bisogni della persona Della donna e delle richieste Quindi ci tenevo particolarmente A prendere questo microfono Per dire a tutte le donne Non valutiamo le strutture soltanto sul sentito dire Le nostre emotività E le persone che lavorano dentro Veniamole a toccare con le nostre mani A guardarle E quindi valutiamo il posto Se può fare al caso nostro per il parto E torniamo a parlare Del discusso caso Della famiglia Monetti Che sembra ad un punto di svolta Dopo che questa mattina Si è consumato il sesto rinvio Per lo sgombero preventivato Dalla casa di Essoria Vediamo gli ultimi sviluppi Di questa vicenda Nel servizio di Edoardo Orazzi La tortuosa vicenda della famiglia Monetti Sembrerebbe essere arrivata A un punto di svolta La notifica di sgombero Della loro casa Che era prevista per oggi 13 aprile È stata nuovamente consegnata Dal custode cautelare Ma senza alcun rilascio dell'immobile Sesto rinvio nell'arco Di quasi due mesi Ma nei primissimi giorni Della prossima settimana Alessandro e la sua famiglia Lasceranno l'appartamento Una proroga resa possibile Grazie al dialogo di questi giorni Tra famiglia, prefettura e questura Tra domenica e lunedì Però i Monetti dovranno lasciare casa Trasferendosi momentaneamente In attesa di poter alloggiare Nel loro nuovo appartamento a Loreto Per il quale hanno firmato un contratto Che partirà dai primi di giugno La sistemazione attualmente trovata Per questo mese e mezzo È quella lasciata libera Dalla zia del giovane 26 anni invalido Ubicata in via Cimarosa Nel quartiere di Villa San Martino Un'abitazione però di piccole dimensioni Che risponde a malapena Alle difficoltà di Alessandro E che difficilmente potrebbe ospitare Tutti e quattro i componenti della famiglia Abbiamo parlato Abbiamo avuto una riunione Con il prefetto in quest'ora Ci hanno dato fino al weekend Insomma i primi della prossima settimana Perciò noi ci stiamo Muovendo già questa mattina Con i vari smontaggi dei mobili E ci stiamo adoperando Per cercare un box Per appoggiare tutto il mobilio Poi per la soluzione per noi Stiamo valutando di trovare un posto Per non dividere la famiglia in due Se si riesce Altrimenti staremo in appoggio A coppie Insomma ecco Magari si sperava di riuscire A non dover fare uno spostamento in più E ci avevano chiesto Se eravamo disposti Abbiamo detto di sì Comunque adesso non troviamo una soluzione Però se dobbiamo Adattarci Ci adatteremo Quindi insomma È la meno pezzo Per il momento dai Questa mattina Alla porta dei Moneti Si è puntualmente presentato Anche il custode cautelare Pratelli Che assieme a quattro polizzotti In borghese Ha atteso la comunicazione Da parte del prefetto Di non intervenire Ultimi giorni dunque Per la famiglia Moneti Nella loro ormai Ex dimora In via Persoria E ultime ore di sofferenza Psicofisica Per il giovane Alessandro Che a causa di questa tormenta Ha rallentato drasticamente Il suo percorso riabilitativo In queste situazioni qui Non sai mai come va Vedendo che comunque Davano proroga Dopo proroga Speravamo che comunque Ci davano il tempo Di rimanere Alla fine Parliamo di un mese e mezzo Ecco quindi Non era un anno Però purtroppo La legge Era da parte loro Hanno ragione L'hanno acquistata regolarmente Quindi noi dobbiamo Rispettare quello che ci dicono E ci chiedono Speravamo di no Ma purtroppo Dobbiamo adempiere Insomma ecco Ed è ceduto Il pesarese Di 82 anni Vittima di un incidente stradale Che avevamo documentato Lo scorso giovedì Incidente che è avvenuto A Pesaro In via Belgioioso All'altezza dell'intersezione Con via Saffi L'uomo era ricoverato Da 5 giorni All'ospedale di Ancona Dove arrivò Soccorso Nell'ambulanza Il 6 di aprile Quando attorno A mezzogiorno La sua bicicletta Carica di materiali Da trasportare Furtata da una Fiat Panda Guidata da una donna Che ora dovrà Rispondere Di omicidio stradale L'uomo è morto In seguito Ai gravi traumi Riportati Ed è stato autorizzato L'espianto Degli organi Ed è stata Una tragedia Quella che si è consumata Ieri Nelle campagne Di Pietrarubbia Dove il 78enne Renzo Dominici È morto In seguito Ad un drammatico Lavoro Di potatura Di un albero L'uomo stava infatti Cercando di tagliare Un ramo di quercia Salendo su una scala D'alluminio Ma nel taglio Ha perso l'equilibrio Cadendo e subendo La putazione della gamba Schiacciata fra il ramo E la lama Della motosega L'uomo è morto Dissanguandosi Ed è stato trovato Dalla moglie Allarmata Dal non vederlo Rientrare in casa Lutto invece Nelle comunità Di Vallefoglia E di Tavuglia Per l'improvvisa Scomparsa Della professoressa Paola Romani Per tanti anni Docente Nelle scuole secondarie Di Sant'Angelo Illizzola E di Tavuglia Cordoglio E sgomento Anche a Pesaro Invece per la morte Di Marcella Manzini Donna molto stimata In città Sorella di Mauro E delle campione Paralimpico Marco Manzini Ed ora Cambiamo Argomento Alice Acciarri Alberta Ferretti Gianni Tangucci E Viola Ceppetelli Sono questi i quattro premiati Della trentasettesima edizione Del premio del Circolo della Stampa Che ieri abbiamo seguito Con le nostre telecamere L'imprenditoria E la moda Di Alberta Ferretti Il teatro E la direzione artistica Di Gianni Tangucci Il management innovativo Di Alice Acciarri L'arte del restauro Di Viola Ceppetelli Quattro declinazioni Di successo Per i quattro premiati Della trentasettesima edizione Del riconoscimento Del Circolo della Stampa Che dal 1964 Conferisce il tributo Di Pesaro Alle storie Di genialità Di chi Nel peserese C'è nato e cresciuto O da chi È stato adottato Personalità Celebrate ieri Dal folto pubblico Di Palazzo Montagna Antaldi A cominciare Da Alberta Ferretti Stilista Imprenditrice Nata a Gradara E premiata Per la capacità Di aver saputo Sempre raccontare Con le sue creazioni L'eccellenza Del Made in Italy Nel mondo Devo dire che è emozionante Ho ricevuto altri premi Ma essere qui oggi È molto bello Perché quando nasci In un luogo E ti sembra tutto così Normale e spontaneo E poi proprio perché Sei fortunata Perché hai vissuto bene Continui a vivere bene Vieni anche premiata Per il tuo lavoro Ti viene riconosciuto È bello Glielo posso assicurare Io nasco in questi luoghi E forse la fantasia Che ho La creatività che ho È data proprio da Da questo territorio Che è un territorio ricco D'arte, di cultura Di passione Di artigianato E anche di umanità Ed è per questo Che sono rimasta A vivere su questo territorio Anche se Il mio lavoro Mi porta in giro Per il mondo E la mia azienda È qui Che è fatta di persone Che hanno fantasia Creatività come me Hanno l'anima E sono umane E io Più che chiamarla un'azienda La chiamo sempre La mia famiglia Premiato anche Gianni Tangucci Per la sua lunga carriera Da direttore artistico Delle massime istituzioni Culturali italiane Dal Teatro Reggio di Parma Al San Carlo di Napoli Sono tantissimi A più di 50 anni Che non sono a Pesaro Ho fatto la mia vita artistica Sempre fuori Sempre tornando comunque a Pesaro Con la famiglia Finché c'erano vivi i genitori È chiaro che mi ha fatto piacere Inaspettato Mi ha fatto maggiormente piacere Quando ho cominciato A ragionarci sopra Perché sono stato sempre Un po' A parte anche di tutte Le manifestazioni pubbliche Sono un uomo di teatro Che è stato sempre In palcoscenico Dietro le quinte Io ci ritorno sempre Le mie vacanze Le faccio quasi sempre qui In agosto Proprio per stare In contatto Con la produzione Del festival Roff Di fatti Una soddisfazione Quando giri per le capitali Della musica Come è stato Durante il mio lavoro Quando ti chiedo Dove sei Io abitando a Venezia Se è Venezia No Sono di Pesaro Automaticamente Gli addetti ai lavori Pesaro Roff E quindi è una soddisfazione Di portare Questo messaggio In giro per il mondo Premio Che è andato anche D'Alicia Ciarri General Manager Di ebay Italia È un ebay appunto A proposito di comunità È una comunità Estremamente dinamica Non siamo nuovi Perché abbiamo 27 anni di vita Ma siamo in continua evoluzione E siamo un marketplace globale Ma siamo anche Estremamente radicati Nel territorio italiano Ed è per questo Che c'è un team in Italia Che si occupa Di dare opportunità di business Alle imprese italiane E insomma Anche le imprese pesaresi O marchigiani Insomma sono molto contenta Di essere qui Anche per dare Spunti di imprenditorialità E di opportunità economica Per il territorio locale Quindi è molto bello Essere qui Circolo della stampa Che ha onorato Anche il lavoro Della fanese Viola Ceppetelli Affermata restauratrice Dei capolavori Dei musei vaticani È un bellissimo lavoro Soprattutto si lavora Con opere d'arte Di altissimo livello Da Raffaello Leonardo Caravaggio Per quanto riguarda Il restauro dei dipinti Sugli arazzi E sui tessuti Si lavora con opere Di grandissimo pregio Io ho restaurato Gli arazzi Degli atti degli apostoli Di Raffaello Sono opere bellissime Che difficilmente In un altro contesto Si avrebbe la possibilità Di restaurare Sono rarissimi Esempi Di questa Qualità Di un prodotto Così alto Come programmare In tempi di incertezza La centralità Delle competenze Questo il titolo Della diciottesima edizione Della scuola Per imprenditori Che prenderà il via Lunedì 17 aprile Si tratta di un progetto Nato dalla collaborazione Fra confartigianato Imprese Ancona Pesero Urbino Il dipartimento di management Dell'università Politecnica delle Marche E live Con il supporto Del partner Confidi Unico La scuola Offrirà agli imprenditori Una formazione di alto livello Strumenti e competenze Per confrontarsi Con le sfide Di un mercato In continua evoluzione E attraverso Un percorso formativo Di sette lezioni Con cadenza mensile Totalmente gratuite Per gli associati Confartigianato Lezioni che si svolgeranno In presenza Coordinate dal professor Gianluca Gregori Rettore Dell'università Politecnica Delle Marche Ora ci spostiamo Nel quartiere Pesarese Di E Pantano Per documentarvi Un intervento Che arricchisce E abbellisce Il polmone verde Del parco Trulla Si arricchisce E si abbellisce Il parco Trulla Polmone verde Del quartiere Pantano Ora c'è un anfiteatro Ad elevare Il suo senso comunitario E a creare Una vocazione naturale Per ospitare Rappresentazioni Ed eventi culturali Le spese Di realizzazione Dell'anfiteatro Pare a 15.000 euro Sono state sostenute Dalla regione Marche Con le consigliere Nicola Baiocchi Che ha dialogato In tal senso Con il comune E con le esigenze Emerse dal quartiere Che ha partecipato Al bando partecipativo Dedicato Siamo qui A inaugurare Un nuovo parco Io lo chiamerei così Un nuovo parco Perché è stato un po' Il nostro obiettivo Sin dall'inizio Quando siamo stati eletti Tutto quanto Il consiglio di quartiere Poter dare Poter dare una visibilità Nuova A questo parco Che veniva sostanzialmente Un po' Demigrato Oppure maltrattato E quindi abbiamo partecipato A questo bando partecipativo Che l'abbiamo vinto Grazie anche ai soldi Che sono arrivati Dalla regione Tramite il consigliere regionale Nicola Baiocchi E abbiamo potuto Completarlo Sia con l'arena Spettacolo Che vedete qui dietro Le mie spalle E con la palestra A cielo aperto Che è un po' più avanti E il cambio delle reti Del campo da calcio Quindi una risestimazione totale Un nuovo punto Dove si potranno anche Tenere delle cose teatrali O comunque fare cultura A Pantano Un posto che mancava È stata un'idea Diciamo così Lanciata Nel momento in cui Il sindaco Ha fatto il giro Per i quartieri E siccome c'era stato Questo bando partecipativo Dove erano state scelte Alcune cose Al posto di altre Perché erano state fatte Diverse Diciamo Pensate Diverse iniziative Per Pantano Alcune sono state stralciate Mentre invece Grazie al Diciamo L'apporto Del consigliere regionale Nicola Baiocchi Siamo riusciti A portare Tutte quelle cose Che il consiglio di quartiere Aveva pensato Questo è il quartiere Che io Sono il quartiere Dove sono nato Quindi tengo tantissimo Ho sempre vissuto Questo quartiere Fino a pochi anni fa E pensavo che Potesse essere utile Alla comunità Avere una fita e altro Un luogo di incontro Un luogo di ritrovo Per le famiglie Per i bambini Di un quartiere Molto importante E molto popoloso Della nostra città Quindi piccolo contributo La regione Marche Però piccoli interventi Che a volte Servono a cercare Di creare ancora Momenti Momenti di pace Di allegria Delle famiglie All'interno della nostra città Questa sera Questa sera alle 21 Alla chiesa dell'Annunziata Di Pesaro Andrà in scena Jekyll Hyde Una produzione Di realtà teatrale Scenoxedia Con Cinzia Damassa E Carla Lama Per la regia Di Luca Guerini A far da preludio E chiusura Allo spettacolo Ci sarà Speedbook Un'idea Di Francesco Luzzi Paolo Sirri E Samuele Bramucci Che si propone Di portare I libri In teatro Il libro scelto Per questa sera Sarà l'ultima vita Romanzo polifonico Del nostro Paolo Pagnini Pubblicato da Bertoni Editore Nelle 2017 Sarà anche l'occasione Per riprendere Alcuni temi E argomenti Sempre attuali Sul senso della vita E sui tanti modi Di viverla Parliamo ora Del festival Di Amat Teatro Oltre Che fa tappa Sabato 15 aprile Alle 21.15 Al teatro Apollo di Mondavio Con Smarrimento Una pièce Che segna L'incontro artistico Di due indiscutibili talenti Ovvero Lucia Calamaro Una delle più interessanti Drammaturghe Registe italiane Contemporane E Lucia Mascino Attrice poliedrica La cui carriera Spazia dal teatro Alla televisione Fino al cinema Ancora cultura Perché domenica 16 aprile Sarà stradomenica A Pesaro Con tutti i luoghi Della cultura cittadina Aperti al pubblico E fra questi C'è anche la biblioteca Oliveriana Che impreziosirà La giornata Con la presentazione Di un volume Davvero particolare Di una preziosa edizione D'arte Realizzata in soli Ottante esemplari Una copia da oggi È conservata All'interno Dei musei Oliveriani Si tratta Della diciassettesima Trascrizione Del libro d'arte Canzone Al metauro Di Torquato Tasso Impressa su carte Di pregio E rilegata a mano Dall'associazione Culturale Italic Con sede a Fermignano Un gruppo Di giovani artisti Legati dalla passione Per la letteratura E per l'arte Spinti a trascrivere In chiave moderna Quest'opera Dando vita Questo Cimelio La canzone Al metauro di Tasso È un libro Che lo stesso scrittore Ha composto nel 1578 Quando in fuga Da Ferrara Si trovava Urbino Un'opera suddivisa In tre stanze Nella prima Il poeta elogia Il duca Francesco Maria II Che lo accolse Nella sua dimora Mentre nelle altre due Riporta il suo Tormentato stato d'animo In una vita Che lo ha visto In continuo conflitto Con i canoni Della società Dell'epoca All'interno dell'edizione Sono riportati Tre saggi riflessivi Contemporanei Proiettati all'analisi Dell'opera È un'edizione d'arte È stampata Con le tecniche tradizionali Quindi in tipografia Caratteri mobili Incisioni È tutto rilegato a mano Con anche capi lettera Miniati Quindi è stato Un lavoro Veramente impegnativo È un'opera Che ha dei contributi Contemporanei Moderni Di autori letterati Che hanno dato Un nuovo punto di vista Sull'opera Oltretutto C'è anche Una serie di incisioni Xilografiche Di Alfredo Bartolomeoli Che ha dato Una propria prospettiva Una propria visione Con le sue opere d'arte Alla visione Della poesia Del tasso La preziosa offerta Verrà presentata In occasione Della stradomenica Di aprile In programma Domenica 16 Alle ore 18 Un volume prestigioso Che va ad arricchire L'offerta Che la biblioteca Oliveriana Presenta alla città Certamente è stato Per noi Una soddisfazione Essere contattati Dall'associazione italica Che appunto Ha realizzato Questo testo Della canzone Al metauro E prima di tutto Perché hanno deciso Appunto di donare Una delle loro copie Alla biblioteca Oliveriana Per la conservazione E questo ovviamente Noi siamo Siamo molto contenti Soddisfatti E lo siamo Anche perché Lento Livieri La biblioteca I musei Conservano Le testimonianze Della scrittura Che vanno dall'ottavo secolo Avanti Cristo Fino ad oggi E quindi chiaramente Una grande quantità E varietà Di documenti Legati alla scrittura E poi in seguito Anche alla stampa E quindi riteniamo Che sia importante Per noi Avere anche Questa pubblicazione Peraltro Anche strettamente Legata al nostro territorio E ad averla Sia per appunto Per la conservazione Ma anche Soprattutto per farla Conoscere Per far parlare Della pubblicazione Anche di quello Che siamo noi Come biblioteca E museo di Veriani Si conclude Qui questa edizione Del nostro telegiornale Rossini News Come di consueto Vi ricordiamo La prima serata Di questo giovedì Che come ogni giovedì È dedicata al basket E all'appuntamento Con insieme a canestro Appuntamento Rigorosamente in diretta Nel salotto Del nostro Marco Cadedu Accompagnato Dalle domande Dalle interazioni Con voi Telespettatori Attraverso il numero Whatsapp 370-366-721-0 Domande E constatazioni Che potrete portare Agli ospiti Della puntata Che sono Il coach Del Loreto Basket Appena promosso Nella serie C unica Stefano Foglietti E il tefosissimo Della VL Roberto Tomassoli Appuntamento Questa sera Alle 21.20 Altra diretta È quella di domattina Alle 7.20 Con Buongiorno Rossini La rassegna stampa Dei quotidiani Locali Che vi dà Il primo sguardo Sulle notizie Attraverso i giornali Resto del Carlino Cronaca di Pesaro E Corriere Adriatico Come detto Sempre in diretta Da lunedì Al sabato E dunque vi aspetto Domattina Per Buongiorno Rossini Invece si conclude Qui questo spazio Informativo Di Rossini News Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata In compagnia Dei nostri programmi Grazie a tutti